Se indovino gli oggetti in una cesta il video finisce Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporto a un creatore Inserire il codice creatore porto così come vedete a schermo Poi accettare E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi la sfida l'avete vista dall'intro Però volevo prima ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete i prossimi video che arriveranno E vi ricordo ragazzi che noi ogni tanto la sera siamo anche live sul sito viola Quindi andate in descrizione nella sezione live streaming E lì ci sarà il link per iniziare a seguirmi E ora vi lascio alla sfida Ok allora quindi devo evitare di indovinare ciò che troverò nelle chest Se voglio continuare il video E vabbè devo indovinare sia rarità ragazzi sia l'arma che trovo Quindi fucile a pompa comune Proviamo Ok perfetto la prima andata la prima andata Anche se non ricordo se nei fucili a... Cioè nelle chest ci sono fucili a pompa Vabbè M4 non comune Uuuuh Mamma mia questa è bruttina eh Ci siamo andati vagamente Vagamente vicini Spero di non aprire troppe chest in questo game Perché è il primo Quindi vorrei far durare il video più di due secondi Ma a prescindere da tutto ragazzi Cercherò comunque di aprire le chest Non voglio evitarle Ci andremo incontro e accetteremo il nostro destino Ok altra chest Ehm mitraglietta comune Pistola non comune Ok Cioè pistola rara scusatemi Altra chest Ok Ehm Non lo so Fucili a pompa raro Uuuuh Ok ci stanno anche i fucili a pompa Ci stanno anche i fucili a pompa Cecchino Oh no comune Cioè volevo dire Vabbè avete capito Comunque non era quello quindi Va bene così Volevo dire cecchino raro Cazzo qua sotto Ehi bro Sceso Serio Ma fra che vergogna Attenzione Con 76 di ping Forse posso provare a pusciargli Oh Attenzione E ti è andata bene bro Bravo ma non abbastanza Ok Oh devo dire che cosa c'è Sempre fucile da precisione raro Secondo me si No Ok Mamma mia raga Però ne sto prendendo troppi Mitraglietta non comune Vai Mitraglietta non comune Uuuuh Mamma mia raga Sto rischiando troppo Solo che mi servono le chest Mi servono cure L'ho pe Ah sono in due Ok ok Finchè sono in due Feitate io Io pesco Non vi offendete Sì 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 Potrò essere sparato da due lati Contemporaneamente Se non mi sbrigo Ah la stanno No Pozze piccole No Ti pareva Vabbè è solito Ah bot bot Ok a posto A posto Ero un bot E però quelle pozze piccole Me le devono a prendere Raga mi levo il flopper Non fa niente Ok mi ha pushato Prendile Prendile Ok Da tanta Mamma mia Che dolore Questo me lo prendo Perché voglio farmi Una gita veloce A prendermi il flopper Ah ma il flopper è da 40 Serio Hanno diminuito La vita che dava prima Ah ok Avevo dimenticato che ci fosse O meglio io non sapevo che esistesse Questo tipo di pesce Ma va bene Oh sta zona completamente lutata Serio Eppure mi sembra Bella imponente Non mi sembra una zona che si luta facilmente Tu che mi dai Lex Ah però la tagliamo La prendo Dai Meno ci andiamo Pian nemico Oh pure Qua Ah cesta Io dico sempre cecchino raro Il problema è che la zona che ti dà E resta sempre troppo ampia Dovrebbe chiudersi O comunque Darti informazioni più precise Perché potrebbe essere anche quello lì Ah tra l'altro Io ho una taglia addosso E sto andando a pia uno con la taglia Fantastico 34 e 34 Ok Gli ho fai dati un po' Quello non è il mio Il tizio della mia taglia No Vabbè 50 godo Ok Non ho bouncer Ok Che fa? Eh sta sotto là lo vedo Ma che cosa ha fatto? Ha finito i materiali? Ah no Poverino È stato massacrato Mi elimino tutti Mi elimino tutti ora Godo 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 Forse godo poco Mi preghi ho questo Non mi offendete Sono fantastica questa Questo sta sopra Sì 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 Ho credo di aver capito la cecchinata allora Mi ha visto un minuto Eliminarlo nel tempo Non è la mia priorità A me non interessa la taglia Mi interessa semplicemente Non c'è avere più il nemico là Anche se sta uno sotto Sotto la sabbia Ok Eliminato nella taglia Tra l'altro C'è nel tempo della taglia Tu che mi dai tizio? Eh guarda Ma sì Accetto anche queste Bello Peccato Ma potevo piagli Qui ragazzi Ho un ottimo high ground Io per andare avanti Mi tengo qua Tanto quelli non mi sgammeranno mai qua Ma mi ha visto Oh 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 Mi ha visto Mi ha visto Problema Problema Houston Problema Oh no no ragazzi Mannaggia Oh 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 No sono loro strutture Follia Follia Qua l'ho sbagliata Qua potevo eliminarmi Vabbè GG Amo queste partite Quando finiscono così Tre persone Box fight Belle come piacciono a noi Quasi quasi Io posso fare una cosa molto divertente Però forse non ho i materiali Li blocco tutti e due qua sotto ragazzi Non li faccio passare Li blocco Così si fightano E l'ultimo che resta Poi rimane bloccato E io rido Sta una sotto Se non riesce a passare Ok però stiamo attenti Che questi all'improvviso Possono decidere Di trovare Uno spiraglio Di salve Ok Ok Ha senso Ha perfettamente senso Bella Grazie mille Uh Apri L'ho fatto un po' arrabbiare Che lo volevo chiudere Secondo me Secondo me non l'ha presa bene Uh Godo frate GG Ok Prossima Allora Prima cesta Taratto pistola Bello Fucile a poppa comune Eh Oddio Ah stava qua un fucile a poppa comune Lo sono chiamato però Ha colpito Guarda Un danno me lo doveva fare Che panico Muori No Grazie Ciao Ho fatto malissimo Uh Ho fatto malaccio Vabbè morto Godo 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 A me a mettere la taglia Vai Cosa mi aspetti Cosa mi aspetti Vattene Uh la nostra taglia è stata appena eliminata davanti ai miei occhi Va bene Vabbè Io mi piglio il potere qua E ci vado addosso Ci avviciniamo di soppiatto Belli simpatici Belli simpatici E bam Godo Bravo Chiuditi meglio come la prossima volta eh Ma se io utilizzo il potere tipo del peperoncino Poi vado sotto la sabbia Divento ancora più veloce Oh Arcatella Il stizio sulla arcatella Arcatella 1 Arcatella 2 Arcatella 3 Frede sto qua comunque Frede sto qua sto qua GG Bella È un po' confusa la zona però non fa niente poverino Uh Ok dovrebbe stare in questa zona di Dusty dai Ah Mamma mia Questa cosa proprio da cheat è comunque Mamma mia Frede c'è un ping secondo me Poverino Non era lui Era un altro Ah giustamente la skin non era quella Rip Ah sono cesto sotto Prendiamola dai Prendiamola Rendiamoci Le cos- Oh Stato Ah Tizio coltello di trasporto Comunque Facciamo scar Scar No Ci ho sperato Ci ho sperato Devo essere sincero Qua è tutto vuoto no Mi trovo qualche sorpresina Dammi il cristallo Grazie Il tizio della taglia lo voglio raggiungere perché è scappato di proposito Sapevo che lo stessi raggiungendo Tra l'altro credo che stia fightando ma con più persone O temporaneamente perché Credo ce ne siano tre esatto Un cecchino Non so dei due chi è quindi mi limito a farne uno Ah no peccato Pensavo che non l'avesse eliminato Vabbè Bello sto cristallo eh frate Anche se forse qui in questo caso conviene andare sottoterra Che dite Prima che finisce l'effetto devo raggiungerli Quanto è bravo? Mi sembra di sì Sembra che sia bravo sì Ah lag No Uuuuh No non mi meritavo di sopravvivere Mi servono cure ma tipo subito Ah slurpa mamma mia Oh Oh Pericoloso Pericoloso Vera Non avevo notato che il caricatore di starma fosse vuoto Non è male Non è per niente male sto tipo Ok Fortunatamente però sono stato un attimo più reattivo di lui Vai Mamma mia la mia mira Cioè Vi rendete conto di quanto è grande la safe Per due persone Io non credo che mi sia mai capitato una safe così grande con due persone Oh 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 Mazzaccata Mazzaccata Beh bella mossa No bravo 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 GG 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 Ci dobbiamo mettere vicini vicini Sì come piace a noi Oh bravo bravo Troppo forte Vai vai Oh oh Mamma mia E che pro playing Che pro playing Vai vai sto qua comunque Non l'ha capito Vabbè Allora Diciamo che Questa sfida La vedo male Però non è impossibile Se può fare Secondo me Partiamo così Mitraglietta non comune No Stai scherzando Non l'ha capito Non l'ha capito Non l'ha capito Non l'ha capito Quena Dobbiamo No